Orzoro Nestlé dal 1940. Gusto morbido, orzo, cacao, solubile, semplice, naturale, solo orzo di qualità. Per orzoro, orzoro, orzo, cacao, le pregiate, miniscela che unisce la naturalità dell'orzo al gusto morbido del cacao per trasformare qualsiasi momento in un rituale sempre più rigenerante. Ogni volta che vuoi è ora di orzoro. Una pausa rigenerante, aggiungi la naturalità dell'orzo al piacere del cacao alle tue pause quotidiane. Un momento per te, una coccola per le tue sere più intime. Parti con gusto e inizia la tua giornata con la naturalità dell'orzo e il gusto del cacao. Orzoro, riparti da zero.